Il nonno spostando la pesante scala del cimitero si è guadagnato un bel mal di schiena, dunque cosa fare oltre che andare dal medico? Guarda caso alle Eurospin hanno dei cerottoni all'arnica curativi per dolori muscolari, contratture, stiramenti, traumi, eccetera, da applicare sulla parte dolorante. Il prezzo di 2,49 euro invoglia sicuramente alla proda e Google conferma che l'arnica disinfiamma, sgonfia e attenua il dolore specie se si ha mal di schiena. Messo nel carrello, presto sarà spiaccicato sulla schiena del nonno, che fra 24 ore darà il verdetto sulla validità di questo cerottone. Grazie a tutti! Grazie a tutti!